Per Arezzo la prima sarà 1R, poi Prada, Baraclit e Menci. Le più grandi aziende a rettine dal 27 settembre prossimo ospiteranno il camper vaccinale della ASL Toscana Sud-Est, una delle prime a livello nazionale a portare i vaccini nei luoghi di lavoro. Il 27 toccherà anche a Grosseto e Siena. Sul camper saranno presenti medici, infermieri e personale amministrativo della ASL. Il percorso vaccinale si articolerà in spazi per l'accettazione e in aree allestite per l'osservazione post-vaccino. I lavoratori avranno accesso diretto semplicemente portandosi al camper vaccinale. L'accordo con le imprese anticipa in un certo senso, ha detto il presidente Gianni, il percorso intrapreso dal governo non ancora pubblicato in gazzetta ufficiale sull'obbligatorietà del Green Pass. Abbiamo riscontrato che le persone tra i 40 e i 60 anni sono nel pieno della propria attività lavorativa e hanno percentuali ancora basse di vaccinazione, ha sottolineato il direttore generale della ASL Toscana Sud-Est Antonio Durzo. E' quindi su questo fronte che dobbiamo e vogliamo volgere al meglio risultati. Il progetto della campagna vaccinale nelle aziende propostaci da ASL Toscana Sud-Est è stato accolto subito con grande favore, ha affermato invece Antonio Capone, direttore generale della Confindustria Toscana Sud. Una sempre maggiore copertura vaccinale contribuirà a dissolvere le preoccupazioni e le incertezze legate all'evoluzione della pandemia.